La Procura della Repubblica di Marsala e i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili a un cittadino marsalese già arrestato lo scorso 9 maggio nell'ambito dell'operazione Fox che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 indagati gravemente indiziati dei delitti di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sull'asse Catania Marsala. Il nuovo provvedimento trae origine dagli accertamenti disposti dalla Procura di Marsala e affidate ai carabinieri della sezione operativa della locale compagnia che attraverso indagini patrimoniali ritengono che i beni oggetto di sequestro siano il provento del lucroso traffico di cocaina o comunque abbiano un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato. L'uomo infatti disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza secondo la ricostruzione degli inquirenti avvalendosi di prestanome o parenti stretti per eludere le indagini patrimoniali avrebbe avuto la diretta disponibilità insieme alla moglie di due immobili una casa su tre livelli e un chiosco adibito a bar peraltro costruiti abusivamente e vari beni immobili di valore non giustificabile rispetto ai redditi dichiarati. L'ipotesi investigativa è che l'indagato si sia procurato i beni immobili e abbia costruito gli immobili con il provento della lucrosa attività di traffico di droga intestandoli a persone a lui vicine per rapporti di parentela o di amicizia proprio per non destare sospetti. I carabinieri ritengono tuttavia di essere riusciti a dimostrare la riconducibilità dei beni dell'indagato e attraverso la minuziosa analisi del suo stato patrimoniale ufficiale a documentare una presunta netta sproporzione tra la ricchezza dichiarata e quella reale. I redditi leciti del nucleo familiare dell'indagato e della moglie complessivamente valutati per il periodo compreso tra il 2017 e il 2021 non sarebbero stati sufficienti neppure a far fronte alle esigenze primarie della vita a fronte invece di un patrimonio immobiliare e anche economico finanziario particolarmente ingente. Nell'operazione Fox erano già state sottoposte a sequestro preventivo due società di vendita a noleggio veicoli a 26 a Marsala e riconducibili a un altro marsalese poiché, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga da Catania a Marsala avvalendosi di insospettabili autovetture a noleggio intestate alle società marsalesi sequestrate. Sarebbero giunti ogni mese due chilogrammi circa di cocaina, droga che avrebbe inondato la città favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Marsala è finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni.